Chi l'avrebbe mai detto? Chi avrebbe mai detto che quella sensibilità ambientale così cresciuta negli ultimi anni dei cittadini, dei consumatori, che ci ha portato anche qui questa sera, sarebbe diventato un problema. Un problema per l'ambiente. Ma come è potuto succedere? Semplicissimo. La cresciuta sensibilità dei consumatori e dei cittadini ha spinto le imprese ad intravedere nel tema ambientale un'opportunità competitiva. E le imprese hanno cominciato a parlare tanto di ambiente. Quando un prodotto è accompagnato da un'asserzione che ne qualifica le prestazioni ambientali e quella asserzione è falsa, chi lo acquista in base alla propria sensibilità ambientale sta facendo del male all'ambiente. Sta generando un danno, un vero paradosso. Beh, intanto cerchiamo di capire. Sta accadendo questo fenomeno effettivamente? Beh, insomma, le affermazioni ambientali sui prodotti negli ultimi anni stanno crescendo molto significativamente. Guardate quelle percentuali incredibili, il 73% di termini che riguardano la plastica e che accompagnano la pubblicità dei prodotti. 66% il riciclo. È sicuramente un tema di moda, però attenzione, è un tema di moda attraverso cui le aziende cercano di vendere i propri prodotti. Soprattutto i prodotti più nuovi, più innovativi, ovvero quei prodotti che vengono immessi sul mercato e che vengono presentati al consumatore in base alle proprie caratteristiche ambientali. Guardate semplicemente questa ricostruzione fatta da quel consorzio che gestisce il codice a barre e che quindi ha visibilità su quello che va a finire sul packaging dei nostri prodotti, quelli che troviamo al supermercato. Questi prodotti vengono accompagnati da rivendicazioni che vogliono vantare qualità ambientali ormai con percentuali veramente molto significative. Pensate, più di un prodotto su quattro si presenta sul mercato facendo appello al consumatore perché venga scelto sulla base del fatto che il consumatore è sensibile all'ambiente. Tutto questo dovrebbe essere un bene, effettivamente. E lo è, se non fosse che la nostra vita ha cominciato ad essere quotidianamente circondata da una pressione straordinaria di claim che riguardano l'ambiente. Tutti i prodotti che scendiamo al supermercato rivendicano in qualche modo un vantaggio rispetto agli altri. E non tutti questi vantaggi potrebbero essere giustificati, effettivamente. Anche quelli che sono accompagnati da più buonsenso. Per esempio, un prodotto che riduce la plastica. Meno 75% di plastica nel packaging. Ci viene automatico considerarlo una cosa buona per l'ambiente. Potrebbe non essere vero. Dipende da qual è il materiale alternativo che si potrebbe usare o che veniva utilizzato per quel packaging. Un prodotto vegano, un prodotto molto di moda. Vi assicuro che molti prodotti vegani possono avere un impatto sull'ambiente, perché sappiamo che il vegano vuol dire altro, possono avere un impatto sull'ambiente peggiore rispetto a quello tradizionale. E allora che cosa sta succedendo? Sta succedendo che effettivamente le affermazioni che accompagnano i prodotti sono in qualche modo riconducibili a termini ingannevoli per il consumatore. Che cosa vuol dire termini ingannevoli per il consumatore? Vuol dire termini che inducono il consumatore a scegliere quel prodotto che sullo scaffale in realtà ha un impatto ambientale peggiore. Quanti sono questi prodotti sul mercato? Le indagini che noi abbiamo fatto in università, al Sant'Anna di Pisa, con un team specializzato su queste tematiche, ci dicono che questi claim possono essere fino all'84% dei claim che accompagnano i prodotti che noi troviamo sul mercato o nelle pubblicità. Vuol dire che 84 pubblicità su 100 presentano caratteristiche che, secondo i crismi della trasparenza nei confronti del consumatore, sono ingannevoli. Sono claim che vi inducono a scegliere il prodotto sbagliato. Se voi comprate quel prodotto, state facendo peggio per l'ambiente rispetto a quanto l'azienda vorrebbe convincervi a fare. 84% è tanto, è una percentuale che preoccupa se si traduce in carenze informative e significative. Che tipo di carenze stiamo riscontrando? Beh, intanto carenze che riguardano gli aspetti ambientali. Molte pubblicità ci parlano di aspetti ambientali che non sono rilevanti per il prodotto. Se io vi parlo di un prodotto che non contiene plastica, ma quel prodotto è una bottiglia di vetro, è ovvio. Se io vi dico che un prodotto cosmetico non è testato sugli animali, sto dicendo una cosa irrilevante. Perché? Perché i test sugli animali sono vietati per legge, quindi nessun prodotto cosmetico è testato sugli animali. Questi elementi danno un quadro che viene preso a riferimento per identificare le pratiche di greenwashing. Le pratiche di greenwashing non sono soltanto quelle pratiche che raccontano in malafede al consumatore una cosa falsa per ingannarlo. Molte pratiche di greenwashing sono semplicemente dovute alla inconsapevolezza da parte del produttore della completa informazione rispetto alle performance del prodotto. Quindi il produttore può parlare per esempio del fatto che l'auto è elettrica per toccare un tema di moda, ma se c'è carenza di informazione al consumatore non viene detto l'elettricità che alimenta quell'auto da dove proviene, il consumatore non è in grado di stabilire se quell'auto è veramente meno inquinante delle auto tradizionali. Perché quell'elettricità potrebbe venire da termoelettrico e vi assicuro che in quel caso un'analisi scientifica rivederebbe che l'auto elettrica potrebbe essere almeno tanto inquinante come l'auto tradizionale. Oppure mancanza di prove, si fa un gran parlare di biocarburanti, ma se la provenienza della biomassa da cui viene derivato il biocarburante non è certificata, quella biomassa può essere coltivata appositamente per produrre il biocarburante e in quel caso i nostri studi scientifici ci dimostrano che il biocarburante ha un impatto ambientale che è paragonabile con quello dei carburanti tradizionali. E allora che come si può fare per risolvere il problema? Come spesso accade ed è stato già citato quando si parla di fake news, l'unico modo per combattere le fake news è usare la scienza e in questo caso gli strumenti li abbiamo. Sono strumenti scientifici che portano il consumatore a consultare impatti ambientali e informazioni che riguardano gli impatti ambientali dei prodotti per scegliere quelli meno impattanti o più green come si direbbe. Per esempio un metodo è quello che dice bisogna considerare tutte le fasi del ciclo di vita di un prodotto, non si può considerare soltanto se si apre il frigo e si vuole fare una merenda molto amica dell'ambiente, si trova una pesca, si trova uno yogurt, prendo la pesca perché orientativamente non ha packaging, non è stata trattata industrialmente, non è stata prodotta in uno stabilimento produttivo e è stata colta dall'albero. Attenzione però, se non si considerano le fasi di trasporto e gli impatti ambientali del trasporto e si vuole mangiare la frutta fuori stagione, è possibile che gli impatti ambientali del trasporto siano talmente elevati perché quel frutto proviene da talmente lontano che addirittura il suo impatto ambientale è peggio dello yogurt. Quindi prima considerazione tutte le fasi. Seconda considerazione tutte le problematiche ambientali. Se io vi dico che una lavastoviglie è green perché consuma poca acqua, attenzione perché una lavastoviglie potrebbe consumare molta poca acqua ma tantissima energia. L'energia è una delle cause principali dell'effetto serra, l'equilibrio tra le due problematiche ambientali, se ne considera soltanto uno, potrebbe essere molto falsato. In terzo luogo considerazione delle certificazioni. Le certificazioni di parte terza da parte di soggetti che nulla centrano nel rapporto di compravendita tra l'azienda e il consumatore possono dare garanzie di parte terza che effettivamente un prodotto abbia delle caratteristiche ambientali migliori. Abbiamo a disposizione questi strumenti? Beh, sicuramente oggi cominciamo ad averli. Ci sono casi eccellenti come questo che vi mostro in cui un'azienda ha dimostrato che la propria soluzione, spillare la birra da un fusto di plastica, che sembrerebbe una cosa straordinariamente negativa, in realtà è meno impattante del fusto di acciaio perché per spillare la birra dal fusto di acciaio bisogna usare tanta CO2 come gas propellente e soprattutto nel futuro ci saranno strumenti come il Digital Product Passport che avete sentito nominare che effettivamente aiuteranno il consumatore ad informarsi. Qual è il mio suggerimento per il futuro? La raccolta di informazioni attraverso questi strumenti, attraverso un QR code, attraverso la lettura di informazioni ulteriori in un sito, in un link che sul prodotto possano darvi maggiori garanzie, aiuta a mandare un messaggio straordinariamente efficace alle aziende di esigenza di correttezza, esigenza di informazioni solide, robuste, scientificamente fondate per poter far sì che la la scelta del consumatore sia informata, consapevole e possa produrre effettivamente dei benefici per l'ambiente. Le aziende devono capire che tingersi di verde non basta più. Grazie.